E probabilmente anche per dare una scossa ai suoi avete visto Stefano Pillastrini si è impizzarrito, Taurino lo ha anche richiamato e minacciato di fallo tecnico, Childress lavora per questo doppio pick and roll, la scelta ancora per il lato destro, Brown va in aiuto, Galanda riceve serie di finte, altri due per Jack Galanda. Mi posso alzare e scappellarmi di fronte ai pick and roll di Randy Childress che è micidiale.